Invito, seppure online, e nell'occasione di questo confronto voglio tentare di dare una risposta a questa domanda cercando di ricostruirla attraverso un'esperienza ma anche e soprattutto attraverso testi teologici e filosofici che ci aiutano a non dare per scontate le parole perché se da un lato la parola amicizia è una parola con cui abbiamo tutti e tutte una grande confidenza non così si può dire quando la parola amicizia è accompagnata da un aggettivo come quello che voi avete messo nel titolo ecclesiale quindi io partirei per fare il mio discorso proprio dal titolo Le fessure di un'amicizia ecclesiale perché questo titolo ha in sé già una proposta di interpretazione, già una scommessa cioè si intravede già nella formulazione del titolo l'idea che l'amicizia possa costituire una fessura appunto, un varco, un taglio per il quale può passare il nuovo come se l'amicizia potesse costituire un punto fermo, un punto d'appoggio, un punto di leva, di tenuta non per attrarre materiali, esperienze, storie, verità ma per far passare qualcosa che prima non c'era quindi mi ha intrigata particolarmente questo titolo Le fessure di un'amicizia ecclesiale sia perché mi ha costretto a pensare, ad approfondire l'idea di un'amicizia non generica ma ecclesiale mi sono chiesta che cosa significa in fondo amicizia ecclesiale e poi perché c'è questa idea di un varco, di un passaggio e che cosa può passare all'interno e grazie ai legami di amicizia sono necessarie tutte queste ulteriori domande perché se noi non ce le facessimo la parola amicizia sarebbe quello che è nella nostra cultura attuale cioè un sentimento che riguarda le relazioni private noi abbiamo amici e amiche e difficilmente abbiamo la percezione che questi nostri legami abbiano un valore per le comunità che siano ecclesiali, che siano sociali, che siano familiari, che siano del mondo per noi parlare di amicizia è parlare di un sentimento che ha a che fare con dei legami, delle relazioni private invece noi stiamo provando a riflettere sull'esistenza perché anche qui non diamola per scontata l'esistenza di un'amicizia ecclesiale o di un'amicizia sociale sono tutte espressioni che non vanno da sé però metto diciamo così un primo mattone che riprendo da una filosofa che a me piace molto che è Maria Zambrano che mi aiuta a sfumare quel confine che ormai abbiamo interiorizzato quasi come se fosse un muro o qualcosa di irrigidito tra quello che noi viviamo singolarmente, intimamente, privatamente e quello che noi viviamo negli spazi pubblici negli spazi che abbiamo in comune anche con estranei e con estranei Maria Zambrano ha una frase che secondo me ci aiuta molto a sviscerare questa idea di un'amicizia ecclesiale che riguarda proprio il modo di intendere ciò che è politico io sto usando qui la parola politico non nel senso tecnico della vita dei partiti ma sto usando la parola politico per indicare tutto ciò che riguarda lo spazio che abitiamo insieme donne e uomini nei nostri contesti di lavoro sociali, ecclesiali e Maria Zambrano dice così si fa politica ogni volta che si pensa di imprimere una direzione alla propria vita a me ha sempre colpito questa frase sua perché mi sembra collegarsi molto bene a quello che le donne nei femminismi hanno portato avanti cioè l'idea che in fondo quello che noi viviamo anche nell'intimità della nostra anima nell'intimità delle nostre famiglie nei nostri legami personali lascia sempre un segno nei contesti che ci troviamo a condividere e a spartire non solo come dicevo prima tra persone che si conoscono si vogliono bene si sceglierebbero perché gli amici, le amiche in fondo si scelgono sempre c'è qualcosa di elettivo nell'amicizia ma lasciano un segno questi legami anche nelle comunità dove ci sono persone che noi non sceglieremmo e da cui non saremmo scelte come compagni come compagni di vita allora in questo caso con questa idea di politica quella linea di confine tra ciò che viviamo privatamente e ciò che viviamo comunemente pubblicamente comincia a sciogliersi un po' ed è interessante anche quello che dice ulteriormente di questo dice che la politica contrariamente al potere non ha mai paura di lasciare andare le cose amate quando queste stanno finendo il potere cerca di rianimarle a tutti i costi non le vuole mai lasciare andare non accetta che finiscano la politica vera anche se ama ciò che va finendo e questo pensate che significato importante può avere nella nostra attuale vita ecclesiale il potere cerca di rianimare a tutti i costi quello che va finendo non lo vuole perdere non lo vuole lasciare andare invece la politica questa cura per lo spazio comune per la vita che condividiamo accetta anche che qualcosa finisca ed è qui che si cominciano a cercare queste fessure sono le fessure attraverso le quali nel momento in cui hai accettato di lasciare andare ciò che va finendo forse può passare qualcosa di nuovo allora l'amicizia ecclesiale deve essere una cosa simile legata a questa idea di politica cioè legata alla possibilità che i nostri legami privati affettivi elettivi lasciano un segno anche nei contesti in cui non tutti conoscono tutti non tutti vanno d'accordo con tutti e qui ci sono conflitti differenze eccetera eccetera con questa idea apriamo un'altra piccola parentesi proprio in questo tempo in cui risuona un'altra parola nelle nostre comunità ecclesiali che è la parola sinodalità fare politica e in questo senso scommettere sul fatto che le nostre amicizie siano politiche significa anche mettersi a parlare tra noi significa scambiarsi le esperienze significa ascoltarsi e allora l'altra parola che vorrei chiamare in causa e che risuona molto spesso ultimamente nelle nostre comunità è sinodalità perché se parliamo di amicizie ecclesiali come spazi in cui può passare il nuovo noi poi dobbiamo porci anche il problema di come questo nuovo diventa occasione per camminare insieme come questa novità può essere da noi intercettata e ascoltata quante novità ci passano davanti senza che noi riusciamo a incrociarle senza che noi riusciamo a registrarle senza che noi riusciamo a raccoglierle per farne qualcosa di buono non solo per noi ma anche per altre e altri sinodalità significa camminare insieme e la sinodalità ha necessariamente bisogno di amicizia però anche qui se in gioco c'è questo elemento di novità che può rivelarsi profondo e proficuo fecondo per le nostre comunità certo è che noi dobbiamo affinare il nostro sguardo e soprattutto essere capaci di ascolto reciproco una psicoanalista non credente che è Giulia Cristeva analizza a fondo il cristianesimo e dice alle chiese cristiane voi avete delle belle storie d'amore delle belle storie di dolore siete capaci di accompagnare le persone che si trovano a queste in queste zone marginali dell'esistenza amore dolore orrore sapete bene avete i simboli per codificare queste esperienze però quello che ormai vi manca sono i luoghi di ascolto delle persone che amano delle persone che soffrono e delle persone che sono terrorizzate e allora quale comunità può essere capace di amicizia se non c'è ascolto delle storie innamorate delle storie ferite e delle storie terrorizzate occorre che ci facciamo anche questa domanda ha ragione Cristeva a dire che noi parliamo d'amore ma non ascoltiamo le persone innamorate parliamo tanto di dolore ma non ascoltiamo le storie delle persone sofferenti sappiamo anche metterci in guardia rispetto all'orrore ma non sappiamo fare spazio né alle paure e neanche alle vite terrorizzate pensiamo per esempio agli abusi ecco per tutti questi motivi che cosa è successo nelle nostre comunità almeno io ho questa esperienza è successo così che la sinodalità e l'amicizia ecclesiale si sono separate per esempio ho ascoltato con le mie orecchie all'interno di gruppi di lavoro parrocchiali finalizzati a fare sinodo questa obiezione l'ascolto nelle nostre comunità è morto noi non possiamo pensare di metterci davvero insieme ad ascoltarci su queste esperienze così forti piuttosto cerchiamo di salvare quel poco che resta e cerchiamo di parlare di sinodalità con le persone con cui ci troviamo meglio anche fuori di qui si è detto con le quali siamo amici e amiche ecco allora perché ho fatto questa deviazione sulla sinodalità perché di fatto nella nostra sensibilità ecclesiale la questione dell'amicizia è una questione di sentimenti in cui davvero possiamo permetterci di ascoltare le nostre storie e la questione della sinodalità è una questione nata vecchia che non sappiamo come tradurre concretamente proprio all'interno dei nostri stessi incontri che magari ci sforziamo di organizzare nel migliore dei modi e dunque capite che arrivata fino a qui ho aperto solo dei problemi però dentro questo quadro problematico tengo ferma la scommessa di fondo cioè che le amicizie dentro la chiesa possano essere non solo dei punti d'appoggio per trattenere ciò che è importante ma dei passaggi per far entrare il nuovo le amicizie sono capaci di rivelarsi relazioni che tengono l'essenziale che lo custodiscono se ne prendono cura ma che contemporaneamente si fanno apertura per qualcosa che ancora non c'è e questo qualcosa che ancora non c'è certamente deve essere ascoltato ascoltato senza paura dentro un orizzonte di ripetizione dell'identico di conservazione questo barco questa fessura si richiude subito e diventa un sentimento che noi consumiamo non nelle comunità tutte ma solo per certi frammenti vissuti dalle persone che appunto già si conoscono si vogliono bene sono simili tra di loro in questo modo si tengono lontani tutti i conflitti e quando si tengono lontani i conflitti si finisce per dare un volto omogeneo chiuso senza differenze a quello a quello che resta noi perché insistiamo e anche voi nel vostro percorso giustamente portate avanti questa idea di un valore politico trasformativo dell'amicizia perché come già diceva Antonella nella sua introduzione veniamo anche da due anni in cui gli amici e le amiche ci sono mancati tantissimo durante la pandemia gli incontri con gli amici e con le amiche sono rientrati nella sfera del non necessario anzi in ciò che in tutto quella sfera di situazione che abbiamo dovuto evitare siamo rimasti più con coloro che già abitavano la nostra stessa casa oppure sui luoghi di lavoro quando non era possibile tradurre tutto nello smart working e tutto è stato mediato dalla tecnologia che non va demonizzata perché appunto la stiamo usando che stasera ci permette eventi che altrimenti non riusciremo a vivere ma contemporaneamente ci ha tenuto lontano dagli incontri in carne e ossa quelli vitali quelli in cui anche il linguaggio del corpo può fare la differenza allora adesso che ho fatto questo quadro di parole intrecciate amicizia amicizia ecclesiale sinodalità che però non riesce ad ascoltare quindi irrigidisce questa possibilità del nuovo prendiamo la domanda che ci stiamo facendo che cosa può portare davvero dove si vede questo valore questa fecondità dell'amicizia dentro le comunità intanto se avete letto fratelli tutti vi sarete accorti perché la parola fraternità che nell'enciclica è sempre usata nel senso dell'esperienza universale siamo tutti fratelli si dice in tante modalità in tante declinazioni ecco vi sarete accorti che questa parola fraternità l'espressione anche fraternità universale sta insieme a un'altra espressione amicizia sociale fraternità universale è facile da capire tutti noi sappiamo abbiamo una mezza idea di che cosa possa significare ma non è così chiaro perché questo lemma questa espressione si dia sempre all'altra amicizia sociale perché nell'enciclica c'è bisogno di aggiungere questa idea di un'amicizia sociale questa idea di un'amicizia che ha a che fare dunque con la comunità la risposta è questa perché c'è bisogno di un correttivo reale della fraternità universale è come se Papa Francesco dicesse che c'è bisogno di specificare l'idea di fraternità con l'idea non di un'amicizia sentimentale ma con l'idea di un'amicizia comunitaria con l'idea di un'amicizia sociale perché altrimenti la fraternità corre dei rischi quali sono i rischi che corre la fraternità la parola fraternità di rischi ne corre tantissimi il primo come hanno già sollevato molte teologhe è il rischio di presentarsi come qualcosa di neutro ma che di fatto non fa spazio al mondo delle donne qualcuno può dire beh è solo una questione di parole dentro la fraternità parola larga è ovvio che ci sono anche le donne che ci sono anche le sorelle in realtà come sappiamo dagli studi di genere in teologia in filosofia dal pensiero della differenza noi siamo diventati tutti molto guardinghi e sospettosi quando mancano le parole sono le cose che tendono ad essere cancellate e infatti noi non a caso abbiamo volti di chiesa tendenzialmente maschili abbiamo mondi politici quasi tutti maschili ma non perché non lo dico per disprezzo del mondo maschile lo dico solo per sottolineare che questa differenza tra uomini e donne che in teoria è compresa nella parola fratelli poi di fatto scompare nella pratica e allora ecco perché c'è bisogno di amicizia sociale di amicizia comunitaria perché nella parola amicizia è compresa un'idea di reciprocità di elezione di rispetto delle differenze che nella parola fraternità tende a scomparire un altro rischio che corre la parola fraternità riguarda il pericolo di un'assenza di giustizia per esempio è facile che le fraternità si trasformino in fratrie l'idea del fratriarcato non so se ne avete sentito ancora parlare indica proprio il problema di alcuni fratelli che si mettono d'accordo tra di loro approfittando di un vuoto di potere di un'assenza del padre si dice con uno stile mitologico legato proprio alla mitologia si mettono insieme fanno alleanza ma non per il bene comune ma per spartirsi qualcosa per fare un esempio concreto ci sono fraternità mafiose ci sono fraternità che appunto si danno come alleanza finalizzata all'interesse personale o addirittura al male in uno stampo escludente e in questa esclusione c'è sempre il rischio che i fratelli maggiori cancellino anche i fratelli minori per cui velocemente velocemente ho nominato questi tre rischi della fraternità che vengano cancellate le donne che siano alleanze senza giustizia mafiose appunto con tutto quello che c'è dietro a questo termine e che siano fraternità sento un eco ecco quindi ecco perché in fratelli tutti si parla anche di amicizia sociale perché c'è bisogno di farsi una domanda dentro le nostre comunità dove per noi è facile parlare di amore parlare di fraternità parlare di bene c'è davvero la cura di ciò che ci accomuna c'è davvero una giustizia che non vive di esclusioni di giudizi che poi tagliano una parte dell'esperienza di messi a tacere delle storie delle storie d'amore che non vogliamo sentire delle storie di dolore che rimuoviamo perché non vogliamo spendere nulla di nostro delle storie di orrore perché ci fanno paura o perché vogliamo mantenere confini sacralizzati ecco allora fraternità universale è un termine ma anche una realtà a rischio di sradicamento senza questa amicizia sociale cioè l'amicizia sociale l'amicizia ecclesiale hanno sempre a che fare con il bene con la giustizia che cosa ha di particolare la parola amicizia in tutte le sue forme e qua faccio un passo ancora avanti perché fino a questo momento faccio un breve riassunto sono arrivata a dire questo eh la l'amicizia eh è uno spazio all'interno delle comunità che non solo rivela il bene possibile ma che apre dei passaggi perché consente una sicurezza tale che permette di far entrare il nuovo il nuovo disordina sempre quindi fino a questo momento io ho risposto positivamente alla domanda che ci siamo fatti può può l'amicizia ecclesiale essere una fessura per il nuovo in tutto questo percorso ho risposto alla fine positivamente sì può essere un elemento di novità e può essere un varco per il nuovo per quanto questo scompigli sempre un po' perché nell'amicizia reale si fa esperienza di qualcosa che tiene di qualcosa che è capace di prendersi cura del bene dell'altro l'amicizia ti fa sentire che è possibile pensare anche al bene dell'altro volere il bene dell'altro in una forma tale che tu lasci che l'altro sia quello che è lo ascolti davvero ora adesso do un'altra risposta che non smentisce la prima ma che fa vedere che nelle comunità cristiane c'è un'esigenza più radicale ancora l'amicizia è sempre legata la reciprocità mentre per esempio posso innamorarmi di qualcuno che non mi ama che non mi ricambia oppure posso odiare qualcuno che a propria volta invece non ha sentimenti negativi nei miei confronti non posso essere amica di qualcuno senza che questo qualcuno sia mio amico cioè l'amicizia è uno di quei legami che vive di reciprocità è per questo che può funzionare da bilancia dentro le comunità perché è una forma di giustizia perché è una forma di simmetria perché è una forma di uguaglianza di rispetto delle differenze di cammino comune di ascolto delle storie non importa se non siamo tutti amici dentro la comunità ma se nella comunità ci sono amici lì c'è la forza sufficiente per accettare novità che altrimenti potrebbero impaurire però e questo è il passo avanti che faccio in questo momento c'è bisogno anche di fare i conti con una radicalità del Vangelo che non trasgredisce questa reciprocità non la butta via ma si fa assimmetria si fa come dire sbilanciamento si fa dono totale quindi se amicizia è una parola di reciprocità e se l'amicizia è capace di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento cioè di creare veri e propri luoghi luoghi di ascolto del nuovo facciamoci anche un'altra domanda possiamo fermarci all'amicizia qual è lo spazio per la radicalità predicata da Cristo che ci parla di un amore per i nemici cioè può bastare la categoria dell'amicizia per dire e mantenere il tessuto di una comunità ci sono esperienze politiche che vivono del contrario noi siamo una comunità perché abbiamo lo stesso nemico non è in questa direzione che vorrei andare non è che sto dicendo le comunità non sono sole ed esclusivamente tenute insieme dalle amicizie ma sono tenute insieme dai nemici comuni come spesso accade sto cercando di fare spazio a quella radicalità del Vangelo che parla di un amore per i nemici e allora facciamoci questa domanda perché soprattutto in questa Pasqua noi siamo stati provocati anche dal modo in cui il Papa Francesco ha costruito la via Crucis ci sono due donne alla tredicesima stazione una russa una ucraina sono due amiche e portano insieme la croce lo fanno dentro questo simbolo e questo ordine simbolico cristiano che non cerca sempre l'equilibrio che non cerca sempre la giustizia della bilancia e che è capace di dire contemporaneamente che le croci non sono tutte uguali ma anche che le croci sono croci e che questo Dio va oltre questa dimensione simbolica della reciprocità allora se Irina e Albina amiche tra loro portano insieme la croce noi siamo costretti a portare avanti la nostra domanda sono capaci loro questa scena è capace di evocare un altro ordine simbolico senza entrare in visioni ingiuste pensate a tutte le polemiche che ci sono state rispetto a questo dicendo appunto le croci dei due popoli non sono identiche perché ci sono gli aggressori ci siamo gli aggrediti noi lo sappiamo bene che non possiamo togliere questa differenza di fondo però sul piano simbolico del cristianesimo questa distinzione vale per l'analisi che deve sempre essere attenta e lucida nella storia però non vale per quella radicalità non violenta che è stata del Cristo e allora sotto i colpi dell'urgenza noi ricordiamo anche che cosa Cristo ha detto nel Vangelo di qualche di due domeniche fa che in quel brano in cui Cristo dice vi ricordate quando io vi ho mandato senza borsa senza sacca senza sandali vi è forse mancato qualcosa no rispondono e poi lui aggiunge guardate che adesso le cose sono cambiate chi ha una borsa la prenda chi ha una sacca la prenda chi non ha una spada venda il mantello e ne compri una perché io vi dico deve compiersi in me questa parola della scrittura gli danno due spade e lui dice adesso basta ecco abbiamo una scena particolare è un Gesù che dice se adesso ti serve una spada prendila pure però sappi che questo non è un gesto cristiano è un gesto da discepolo che non può coincidere con il Cristo non chiamare quella scelta come cristiana perché la giustizia cristiana non fa diversamente ecco allora questa idea tutto questo giro questo affondo sulla via Crucis lo faccio proprio perché anche la storia ci sta dicendo forse possiamo puntare su un'immagine di amicizia per far passare un altro ordine simbolico che non ci fa discutere solo armi sì armi no gas di qui o gas di là ma ci sbilancia su una radicalità che forse è di fatto impraticabile ma che non smette di essere reale che non smette di essere evangelica che non smette di essere quel senso della vita della buona vita della vita eterna di cui appunto si parla si parla nel Vangelo quindi ritorno un attimo questo diciamo è ciò che pensavo di condividere con voi aggiungo solo una cosa rispetto alla parola dell'amicizia che non è solo un sentimento ma che è una relazione che porta su di sé una responsabilità pubblica prendo due punti prospettici da due filosofe che mi sembra possano aiutarci nella riflessione che stiamo facendo che cosa dicono Simone Weil e Anne Arendt riguardo l'amicizia perché poi cerchiamo di riportarlo nel nostro discorso di un'amicizia ecclesiale Simone Weil ha una bellissima immagine riguardo gli amici dice gli amici sono come due parallele che si incontrano nell'infinito le parallele non si stanno addosso hanno sempre una distanza tra loro si tratta di accettare di essere due e non uno è un punto di estraneità fondamentale che c'è tra gli amici un rispetto dell'alterità un'estraneità che fa sì che l'amicizia possa darsi anche quando non siamo uguali quando tra noi c'è tanta differenza c'è anche distanza in quelle straneità c'è spazio per dirsi la verità c'è spazio per l'onestà del giudizio c'è spazio per coinvolgersi generosamente nella vita dell'altro addirittura lei dice nell'amicizia c'è questo elemento vuoto questo elemento di estraneità che se noi non abbiamo fretta di riempire rende l'amicizia quasi come un sacramento a me piace tanto questa immagine perché ci aiuta a rispondere alla domanda iniziale qual è la potenza di un'amicizia ecclesiale la potenza è tanta può arrivare anche a simbolizzare la radicalità del Vangelo ma come dice Simone Weil deve esserci uno spazio mantenuto vuoto al suo interno deve esserci un luogo di differenza un luogo vuoto è da lì che passa il nuovo quando tu nei legami lasci uno spazio vuoto lasci che tra te e l'altro ci sia un legame tale per cui non puoi essere né uno ma neanche due senza il vuoto non c'è verità e questo vuoto permette e torno quindi sulle nostre comunità ecclesiali se tra noi amici rimane questo spazio vuoto la nostra amicizia dentro le comunità farà sì che quello spazio vuoto possa essere raggiunto dal nuovo e anche dalla grazia altrimenti il noi lo sappiamo secondo Simone Weil il noi è sempre molto divorante molto fagocitante e l'ultimo punto che vorrei condividere con voi su questo tema viene da Anna Arendt Anna Arendt in un testo del 1959 che si intitola L'umanità in tempi bui si è fatta questa domanda come si può restare umani nei contesti violenti nei contesti così avvelenati che in fondo anche la tua anima risente del male non sei riuscito a tenerla fuori come si resta umani quando il mondo è avvelenato dall'ingiustizia e dalla violenza e lei dà questa risposta è possibile scoprire che esiste un'altra umanità ed è quella delle donne e degli uomini che non smettono di credere nell'amicizia non è vero che l'amicizia è un dono degli anni solo giovanili a volte si sente dire che i migliori amici le migliori amiche sono quelle che ti sei fatto quelli che ti sei fatto quando eri giovane in realtà è possibile a me è capitato incontrare nuovi amici e portare avanti delle relazioni anche molto forti proprio nella condivisione di ciò che ci sta a cuore insieme Anna Arendt diceva però attenzione l'amicizia di cui sto parlando io è molto diversa dalla fraternità cristiana perché Anna Arendt ha l'impressione che nei nostri valori buoni amore del prossimo carità fraternità non ci sia mai spazio per il mondo comune non ci sia mai spazio per prenderci cura di quelli che non fanno parte dei nostri affetti ecco le comunità ecclesiali oggi sono chiamate a mostrare che Anna Arendt su questo non ha ragione che è possibile l'amore del prossimo e che esistono amicizie che non buttano fuori il mondo dal loro legame perché sanno tenere dentro il legame uno spazio vuoto in cui il mondo in qualunque momento può rientrare e allora abbiamo bisogno di credere nell'amicizia di sapere che generiamo cultura generiamo pace generiamo un'altra umanità puntando su relazioni che non sono le relazioni della competizione e non sono le relazioni della guerra ormai stiamo dando per scontato anche nel nostro modo di educare i giovani stiamo dando per scontato che crescere significa saper competere e anche quando serve saper fare la guerra con qualcuno dobbiamo come diceva Natalia Ginzburg invece insegnare anche le grandi virtù insegnare a scommettere sulla gratuità dei legami non sono solo ciò che noi consumiamo negli spazi privati negli spazi del nostro godimento del nostro piacere perché nelle amicizie vere quelle che sanno mantenere questo punto di estraneità quelle che disegnano strade parallele lì può passare qualcosa di nuovo perché quella è davvero la tenuta reale delle nostre comunità ma da questo punto di vista noi siamo costretti a fare i conti con il fatto che le amicizie hanno bisogno di cura le amicizie non sono già fatte non si danno una volta per tutte e dunque abbiamo bisogno e qui riprendo ancora Simone Weil le vere amicizie hanno un nucleo mistico al loro interno perché non sono non solo sanno custodire uno spazio vuoto per far passare il nuovo ma sono disposte anche a lasciare che la grazia passi per quella fessura e la grazia allora può essere lasciata libera lo spirito può essere lasciato libero di generare tutte le trasformazioni che vuole senza che noi ci preoccupiamo di difenderci o di ripetere e di ricompattare sempre il tutto secondo vecchi canni ecco l'importante è che sentiamo questa amicizia come un punto di partenza di cui prenderci cura sapendo che il punto di arrivo è l'amore per il nemico all'amore per il nemico si arriva attraverso le amicizie quando si arriva alla radicalità dell'amore per il nemico le amicizie non vengono smentite non vengono messe da parte non sono la scala che non ci serve più una volta che siamo saliti ma sono il luogo vitale gratuito della bellezza anche dello stare insieme ecco ecco